La mia idea conta. Non è possibile che alcuni hotspot che riescono a contenere un massimo di 100 o 200 ce ne siano migliaia. Così come va rivista a Monte, perché tante persone partono buttando i propri documenti e non fanno una richiesta concreta, seria ed effettiva? Perché non pensare di aprire degli uffici dove fare delle richieste d'asilo che siano in Francia, che siano in Italia, che siano in Germania e nel resto della comunità europea? Cambiamo le regole d'accoglienza, facciamola in modo più civile.